Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno, per soldi, quasi tutto, per fede fascista pochissima. Voi no, voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. E' strano però, sai, tutti vorrebbero sembrare diversi dagli altri e tu invece vuoi somigliare a tutti. La normalità. Voglio costruire la mia normalità, faticosamente. Ma nella religione. Fuori dalla religione. Fascista! Non, non, Marcello, anche lui è fascista. Sei un verme, mi fai schifo, mi fai schifo. Ave Maria piena di grazie. Ave Maria piena di grazie. Signore, tecno. Voglio che il perdono me lo dia la società. Mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani e il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.